I tre indagati di Palma di Montechiaro che sono ristretti nel carcere Pasquale di Lorenzo a seguito di quanto accaduto nel pomeriggio di merdi scorso ad Agrigento, al villaggio Mosè, del parcheggio antistante e l'auto concessionaria di Lillo Zambuto, l'LZ Auto per Passione, sarebbero passibili di ipotesi di reato alquanto non ricorrenti. Si tratta tecnicamente del reato aberrante, ovvero il reato commesso per un errore di esecuzione o con modalità diverse e che colpisce un soggetto diverso dal previsto. Quindi l'omicidio di Roberto Di Falco, 38 anni di Palma di Montechiaro, sarebbe stato un omicidio per errore. Ancora più nel dettaglio si tratterebbe di errore nel colpo, deviazione del colpo. Infatti la vittima, Roberto Di Falco, il fratello Angelo Di Falco, 39 anni, entrambi i commercianti di automobili, i loro due amici, Calogero Zarbo, 40 anni e Domenico Avanzato, 36 anni, sono giunti alla concessionaria di Zambuto forse perché animati dal vendicarsi del non essere stati pagati per una compravendia di automobili. I quattro avrebbero aggredito Zambuto e si è scatenato una colluttazione ed il trambusto ha partorito lo sparo di un colpo di pistola che ha ferito gravemente Roberto Di Falco, poi morto appena giunto al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. Più nel dettaglio, Roberto Di Falco è stato ucciso dalla stessa pistola da lui impugnata per verosimilmente sparare e uccidere Zambuto che reagendo d'istinto ha deviato la canna e l'esplosione ha colpito Roberto Di Falco. Angelo Di Falco avrebbe quindi raccolto la pistola e avrebbe tentato di sparare contro uno dei due figli di Zambuto ma l'arma si è inceppata. Forse anche alcune telecamere di sorveglianza nella zona avrebbero registrato e testimoniato ciò che adesso il procuratore Giovanni Di Leo ed il sostituto Gaspare Bentivegna contestano e tre palmesi.